Sono Francesco Panariello, segretario della lista civica La Torre Futura, con la quale abbiamo creato questo nuovo laboratorio politico a Torre del Greco. Ci siamo prefissati degli obiettivi ben precisi, soprattutto la valorizzazione delle persone, del nostro territorio e della nostra storia, ovviamente abbinato a quello che è un miglioramento della nostra qualità di vita. La Torre Futura è composta da tutte persone che non hanno esperienze sugli scanni di Palazzo Baronale, ma hanno delle ottime e comprovate esperienze professionali, passate e presenti. Tutti siamo animati da passione e dalla voglia di far bene. Con questo appello vi vogliamo trasmettere questo nostro entusiasmo e questa nostra passione, che deve andare anche oltre il 14 e 15 maggio per sviluppare sempre per più questo percorso di crescita di questo nostro laboratorio politico. Abbiamo scelto di aderire alla coalizione del candidato sindaco Ciro Bordiello perché ha già dimostrato nelle sue passate esperienze consigliari la sua capabilità nel voler raggiungere gli obiettivi per il bene della città e a qualsiasi costo. Forza La Torre Futura, un voto per il futuro!